Più veloci! Oh! Vento e basso! Eccola! Pronti agli archi! Tutti in posizione di battaglia! Pronti a colpire! Pronti a colpire! Non viste! Arcevi! Preparatevi! Riproviamo! Stracce! Arcevi! Preparatevi! Più veloci la situazione! E spesa in quella nave! Più veloci! E siamo! Comandante assente! Riposo! A partaccio! Comandante! Buon appetito! Oh, oh, oh. Non la spera! Ci sto prendendo la mano! Ho perso un paio di bravi uomini contro quei pirati. I mari sono più pericolosi, ora che Sparta e Atene sono ai ferri corti. Ci servono nuove reclute per migliorare la ciurda. So da dove iniziare. Il migliore arciere che conosca sarà una risorsa preziosa. Quando lo incontriamo? Beh, dovrai persuaderlo. Che intendi dire? Portalo a bordo e ci penso io a convincerlo. Qualche dracma potrebbe aiutare. Quindi vuoi che lo metta fuori combattimento? No, no! Beh, forse potresti calmarlo un po'. Poi portalo sulla nave, così posso fare due chiacchiere con lui. Andrà tutto bene, garantito. Il migliore arciere con lui. Il migliore arciere con lui.